Il comune di Teramo, in anticipo sugli altri comuni abruzzesi, attiva da oggi il COC, un centro operativo comunale per coordinare e gestire al meglio l'emergenza coronavirus. La sede scelta è quella del Parco della Scienza, la stessa utilizzata per gestire i soccorsi in occasione dell'ultimo evento sismico. Per il momento il COC Teramano rispetterà come apertura gli orari di ufficio. Un COC che serve a dimostrare la nostra vicinanza alla città, l'abbiamo fatto in modo preventivo, forse tra i comuni siamo tra i primi ad aver aperto il COC. Vogliamo avere un dialogo diretto con i cittadini, avere la possibilità di dare delle risposte immediate e nell'eventualità si dovessero verificare delle esigenze particolari, principalmente le categorie più bisognose. E per gli anziani a cui è consigliato di non uscire di casa nemmeno per andare a fare la spesa, ecco che il Comune di Teramo, in collaborazione con due associazioni di volontariato, offre loro un servizio di spesa a domicilio. Per il momento sono 40 i volontari. L'iniziativa servirà a garantire alle persone che in questo momento dovrebbero rimanere a casa, in base a quello che è previsto dal decreto, parliamo di persone che in questo momento non presentano sintomi e che hanno superato il sessantesimo anno di età. Il servizio servirà ad assicurare loro i beni di prima necessità, quali la spesa, farmaci, eccetera. Quindi attraverso un buon numero di volontari, circa 40, abbiamo attivato dei numeri che saranno comunicati nelle prossime ore, appena il COC sarà pienamente operativo, questi numeri potranno essere chiamati, una persona risponderà, prenderà le generalità, gli indirizzi, farà prima un check anche per valorizzare il rischio che si ha ad andare a trovare queste persone, quindi si chiederanno quali sono i sintomi, se ci sono o meno. In base al tipo di rischio andrà un certo tipo di operatore che sarà comunicato con nome e cognome alla persona che ha necessità del servizio, in modo che ci sarà anche un controllo incrociato per evitare le truffe.